Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Come vi ho annunciato nella trasmissione precedente, parlerò di alcuni commenti sul libro di Hillman relativi a un terribile amore per la guerra e la visione che dà Hillman di Ares e una visione di Hillman che è presa un po' da Walter Otto e che Hillman dopo utilizza per fare il suo discorso sulla guerra e contro la guerra. Ciò che ha disturbato molto di quel libro è stata proprio la collocazione di Ares perché è una collocazione che è stata fatta dal punto di vista monoteista, cioè dal punto di vista cristiano e non dal punto di vista pagano ed è di questo che parleremo. Allora, prima di iniziare la trasmissione, mi ricordo tanto che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale per Mesangotto Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo su di Politeisti e Casapostale 53 Marostica, Vicenza. Niente, ricordo che sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo abbiamo ottenuto il rito dell'equinozio d'autunno. E' andato bene, diciamo così, e anche quest'anno abbiamo celebrato l'equinozio d'autunno, per cui il prossimo rito adesso sarà per l'equinozio di primavera che terremo in marzo. Dovremmo riprendere un po' i dibattiti e uno dei dibattiti che io volevo fare è appunto relativo a quello che vi sto facendo stasera in pratica, perché secondo me è abbastanza importante. Poche persone che vengono generate all'interno del monoteismo, del cristianesimo, riescono a comprendere concetti che non sono monoteisti. A volte si riescono a comprendere i concetti a livello intellettuale, ma a livello profondo, a livello emozionale, questo è molto più difficile e ci vuole molto più tempo. Ma altronde, come direbbe qualcuno, siamo sempre agli inizi e gli inizi sono caratterizzati proprio da fragili equilibri e questi equilibri sono quelli che stiamo vivendo in questo momento. A volte abbiamo una chiesa cattolica che dichiara guerra alla società civile, un Ruini, un Ratzinger che sono determinati a distruggere il sistema costituzionale e il sistema civile e dall'altra parte non assistiamo a nessuna reazione e a nessuna riaffermazione di quello che è il dettato costituzionale, di quello che è la norma civile. E questo lascia un po' perplessi, no? Anche come capacità di percepire le cose, di percepire la società e di percepire il modo di essere delle persone. Comunque io farò questo discorso adesso, da dove nascono gli errori d'analisi della situazione sociale quando si travisa il senso delle antiche divinità. e poi se mi avanzerà un po' di tempo, se mi avanzerà un po' di tempo, ho una serie di articoli, ma ve ne farò penso uno solo, che secondo me è il più importante di tutti quanti, che è uscito il 26 settembre 2005 sulla Repubblica e che si intitola La salute del cuore, questioni di testa, gli scienziati, lo stress uccide, quanto colesterolo, fumo e obesità. Vi farò questo articolo perché al di là del titolo, dà tutta una serie di dati, tutta una serie di spunti per riuscire a comprendere anche le relazioni fra le varie parti del corpo e i rapporti fra l'uomo e il mondo che ci circonda. Questo è un copyright di Newsweek, cioè l'articolo appare su Newsweek e viene tradotto da Fabio Galimberti e pubblicato sulla Repubblica del 26 settembre 2005. Comunque sempre se ci sarà tempo perché il discorso che voglio fare è abbastanza lungo e complesso. Questo discorso che vi faccio comunque è già all'interno del gruppo Paganesimo, il gruppo di discussione che c'è su Yahoo. Praticamente, niente, fra i vari gruppi, il gruppo Paganesimo è il gruppo nel quale praticamente scrivo, scrivo i vari pezzi. Ne ho un altro gruppo, via occidentale della conoscenza, ma lo uso soltanto per sperimentazione, per cui non mi interessa neanche le persone che si iscrivono, sono iscritti solo alcuni amici in pratica per sostenere il gruppo, però non è un gruppo di discussione. Mentre invece il gruppo Paganesimo, che ormai è il gruppo storico, che da oltre 5 anni praticamente è sul gruppo di Yahoo, ha oltre 400 iscritti, fra le altre cose, è il gruppo centrale di quello che noi stiamo facendo. e questo articolo che vi sto già leggendo è già stato in buona parte, no, tutto quanto, anzi, anche perché deve essere ancora finito, pubblicato sul gruppo Paganesimo. Nel suo libro, Un terribile amore per la guerra, a pagina 105, edizione Adelphi, Hillman afferma, parlando di Ares, alla presenza di questo antico Dio, abbiamo alluso fin dall'inizio del nostro libro. Ora esporremo più diffusamente la sua natura, iniziando dagli epiteti, gli attributi descrittivi o soprannome di uso comune nella cultura dell'antica Roma. Marte l'ha detto Caecus, Furibundus, Ferrus, ferino bestiale, Ferox, feroce, Nimius, eccessivo, Insanus, sanguineus, scelleratus, rapidus, subitus, atrox, calidus, ardente, lascivus, sfrenato sceno, astatus, armato di lancia, cristatus, cristato, ultor, vendicatore, deprensus, colto in fragrante, turpes, asper, confusus, sevus, feroce, priscus, arcaico, antico. E questi sono gli episodi di Ares, il dio del Panteon greco, al quale Marte fu assimilato. Adrofeneus, uccisore di uomini, Aidelos, distruttore, miai fonos, macchiato di sangue, omicida, brotoloigos, funeste e mortali, crateros, forte, dotato di forza violenta, soprannaturale. Altre parole a lui associate, tarsos, ardire, coraggio, lussa, furore guerresco, menos, forza vitale, furore, impeto, guerriero. leggendo l'analisi di Girard, che Girard compie dell'aggettivo crateros, scopriamo che esso ingloba esattamente l'inumanità che abbiamo descritto, la quale risulterebbe incomprensibile senza tale connotazione sovrumana. La violenza di Ares Crateros è una violenza sacra, perché autorizzata dal suo istigatore inumano e ritualizzata negli stati alterati del campo di battaglia dove si mostra la congiunzione entro il sacro di violenza buona e violenza cattiva. Ares non è meno divino per il fatto di essere crudele e brutale. Il campo di battaglia come luogo dei sacrifici è la partecipazione in un sacramento. In questa storia di sangue si manifesta un Dio, il che pone la guerra tra i fenomeni autenticamente religiosi. Ed è per questo che essa è così terribile, così amata e così difficile da comprendere. Esistono in realtà pochi miti riferibili ad Ares, scrive Walter Burkert, il maggiore conoscitore e interprete vivente delle fonti antiche. Ares compare in diversi episodi del racconto americo della guerra di Troia. Ma benché gli eserciti in guerra compissero sacrifici in suo onore sono pochi i suoi luoghi di culto, pochi templi, poche le descrizioni di riti o misteri a lui dedicati. Considerato che gli stati greci erano continuamente in guerra tra loro e con i persiani, come mai tanta scarsità? In realtà la cosa non dovrebbe stupirci, perché questo Dio non è molto articolato, si manifesta nell'azione più che nel racconto. Le sue leggende dei suoi miti si spiegano in combattimento, negli attacchi improvvisi di furia cieca e folle. Più che come una figura dobbiamo concepire Ares come una forza, una presenza nel cuore dell'azione, più che in disparte ad osservare. E questo, e con questo, Ilman vuole giustificare quanto asserisce a pagina 104, parlando degli orrori della guerra come concetto umano di scontro e di battaglia. Queste azioni di guerra non furono compiute da selvaggi ispirati da atavici rituali, bensì da truppe ben addestrate. Sta parlando comunque di orrori, di stragi, di assassini, di torture, di violenze, di violenze perpetuate in tutte le guerre. Bensì da truppe ben addestrate di nazioni che si vantano per i propri valori di civiltà, le proprie leggi umanitarie, la propria educazione morale e la propria cultura estetica. Ne sono tipiche di una sola nazione, dei giapponesi, degli americani, dei tedeschi, dei serbi e dunque caratteristiche del costume di un popolo particolare e neppure riguardano una minoranza di criminali psicopatici dell'esercito. No, questo è ciò che fanno le guerre, ciò che sono le battaglie. Sono le convenzioni del saccheggio su scala mostruosa, sia individuale sia collettiva. sono implacabili i comportamenti archetipici, comportamenti di un archetipo governati, posseduti, incomandati da Marte. E questo è ciò che vuol dire Hillman. E ora proviamo a capire dove sono gli errori di Hillman e da dove Hillman estrae questa convinzione. Cominciamo a comprendere sia la natura di Ares, Marte che quella di Hillman. Hillman cresce in un ambiente monoteista ed educato in un ambiente monoteista, il suo punto di vista quando guarda le divinità delle antiche religioni è quella della centralità della specie umana intesa come specie sociale e culturale rispetto all'insieme dell'essere natura nella quale questa si è formata ed è divenuta. Ciò che sfugge ad Hillman o almeno non lo utilizza nel corso della sua analisi è il fatto che chi ha forgiato le immagini delle antiche religioni non considerava la specie umana come diversa e separata dall'essere natura nel quale essa è divenuta. In pratica Hillman analizza il presente usando una categoria Ares che appartiene a un diverso presente a una diversa concezione umana della vita. Sembra quasi che Hillman riprende il discorso relativo ad Ares espresso da Walter Otto negli dèi della Grecia pubblicato da Adelfi al capitolo relativo Dio e uomo dice Walter Otto ed ora sentiamo ciò che pensa di lui il padre di tutti gli dèi quando egli va lagnarsi da lui lo chiama fazioso incostante e fra tutti i celesti odioso che fa sue delizie e risse e zuffe e discordie e battaglie gli altri dunque non sono così non vogliono guerre perenni la figura di Ares deriva dalla religione della terra ormai superata la sua brutalità aveva avuto Colà un posto onorevole nella sfera dell'inesorabile egli è lo spirito della maledizione della vendetta del crimine di sangue come demone della strage sanguinaria egli conserva ancora in Omero la sua terribile grandiosità tanto più terribile quanto meno compare come personalità l'uccidere è il suo elemento perciò si chiama distruttore sterminatore di uomini sua compagna Eris la contesa che scorre fra le turbe spargendo odio aumentando il grande lamento umano Iliade in furia fra i troiani non meno che i greci il suo nome significa sovente null'altro che lotta sanguinaria perciò Zeus lo definisce senza caratteri che è con tutti o piuttosto contro tutti Iliade sullo scudo di Achille era raffigurata una scena di guerra davanti alle schiere dei guerrieri marciano Ares e Palla di Atena Iliade questa rappresentazione corrisponde meglio alla fede genuina di quanto non faccia la partecipazione di Ares alla sorte dei troiani in alcuni episodi dell'Iliade non può recitare a lungo un ruolo di tal genere perché in fondo egli è solo un demone e la sua indole consiste in cieca brutalità che differenza con Atena che sì anche battagliera ma dea del senno e del nobile contegno rappresenta l'eroismo genuino nello splendore celeste egli invece si perde nell'estasi dello spargimento di sangue mancando così totalmente di quella profondità e grandiosità che sono proprie della natura di tutte le figure genuine di questa religione e questo è ciò che di Ares dice Walter Otto gli esseri umani che hanno individuato Ares e la sua azione nel loro presente non avevano l'idea della centralità della specie umana rispetto all'insieme nel quale essa era divenuta ma avevano l'idea della centralità della vita dalla quale tutte le specie scaturiscono e divengono se vogliamo semplificare gli antichi non avevano un'idea creazionista della loro esistenza ma avevano un'idea evoluzionistica non è necessario avere chiara la teoria dell'evoluzione per esprimere concetti comprendenti in essa riflettete sul fatto che gli esseri umani costruivano barche e mezzi di navigazione ben prima che Archimede scoprisse il principio di galleggiamento la razionalizzazione segue l'intuizione solo in un secondo momento persa la memoria dell'intuizione gli esseri umani tentano di comprendere che cosa sia stato razionalizzato se ciò non fosse non si capirebbe perché nell'antica legione greca ci sono una miriade di divinità che precedono gli dei olimpi ma che non furono mai oggetto di venerazione in pratica dei precedettero gli dei che precedettero gli dei a quali innalzarono l'altare fino a diventare dei della civis o della polis la realtà religiosa era divenuta per trasformazione per germinazione e generazione se non si abbandona il punto di vista creazionista non si possono comprendere le antiche religioni e non si può comprendere nemmeno la figura di Ares per comprendere Ares Marte è necessario inserire Ares nell'insieme da quale Ares diviene Ares ma o Marte è figlio di Zeus questo è il primo errore che fa Ilman scrive Ilman a pagina 109 di un terribile amore per la guerra edizione a Delphi parlando della nascita di Ares e non dimentichiamo che la madre di Ares la quale secondo Chereni assomigliava era la grande dea era regina dei cieli e sposa di Zeus il quale però non era il padre la dea infatti generò quel figlio da se stessa per vendetta contro lo sposo dalle troppe avventure amorose feconde di prole il dio della guerra germinato nel furore emerge dalla colla tardiera questo dice Hilman ora se c'è un figlio di Zeus che possiamo considerare anche nei termini attuali assolutamente legittimo questo è proprio Ares leggiamo cosa ci dice Siodonea Teogonia per ultima era fiorente e gli fece sua sposa che ebbe e Ares e Eletuia partorì unita in amore al re degli dèi e dei mortali egli dalla sua testa generò la glaucopia de Atena tremenda eccitatrice di tumulti guida in vita di eserciti signora chiama i clamori e guerre e battaglie era senza unirsi in amore con alcuno Efesto illustra generò perché da ira fu presa e contese contro lo sposo lui che è valente nelle arti fra tutta la stirpe di Urano non Ares fu partorito da era perché fu presa da ira ma Efesto e allora perché Ilman si lascia ingannare così facilmente e perché Walter Otto non si chiede se ci sia qualche cosa che gli stia sfuggendo veramente se le chiedi in qualche altra parte del suo libro ciò che inganna le persone monoteiste nel comprendere Efesto è che Efesto è un fabbro un costruttore mentre Ares è solo guerra Ares non ha nessun'altra attività se non la guerra iniziamo a mettere un po' di ordine a me in generale non piace il termine junghiano di archetipo anche se qualche volta lo uso la vita diviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive dove per quanto riguarda gli esseri della natura le variabili oggettive altro non sono che l'insieme degli adattamenti soggettivi che i singoli esseri delle singole specie hanno messo in atto nel corso di centinaia di milioni di anni innanzitutto chi o cosa è era nelle visioni degli antichi questa è la prima risposta che dobbiamo dare la seconda risposta che dobbiamo dare è che cosa sono e che cosa significano gli amplessi amorosi di Zeus cosa è Zeus uno che va a scopare a destra manca cominciamo dalla seconda risposta Zeus ha combattuto e vinto la guerra con i titani con questo si è assicurato il titolo di re degli dei in pratica ha costretto i titani a riconoscere il suo diritto a costruire la vita Zeus ha combattuto e vinto la guerra con Tifone con questo si è assicurato che Tifone non distruggerà il suo regno almeno non ora ora Zeus deve costruire la vita la vita della natura come noi la intendiamo le sue relazioni amorose ricche di prole altra non sono che la costruzione la nascita di condizioni oggettive all'interno e attraverso le quali la vita si costruisce e si manifesta non a caso nella teogonia di esiodo il matrimonio con era è l'ultima delle relazioni messe in atto da Zeus Zeus è l'atmosfera di questo pianeta di questa rea perché il pianeta è rea era è l'essere natura ed è dall'unione dell'essere atmosfera Zeus e dell'essere natura era che germinano le tre condizioni che l'essere natura era stabilisce per il proprio sviluppo e la propria crescita nascita sviluppo e crescita ripeto nascita sviluppo e crescita sono prerogative proprie degli dei gli dei nascono si sviluppano e crescono per cui nascita sviluppo e crescita sono le prerogative degli dei mortali delle tre condizioni stabilite da era per la sua crescita e il suo sviluppo nascita maturità sessuale e contraddizione noi metteremo l'accento su quest'ultima su ares ares è l'essenza stessa della natura ripeto ares marte è l'essenza stessa della natura per questo motivo Zeus afferma che aree assomiglia tanto a sua madre era era è la natura la sua essenza è ares proiettare delle categorie morali umane come giudizi sulle scelte di singoli esseri delle singole specie dell'essere natura è arbitrario peggio diventa criminale quando vengono proiettate sulle azioni della specie dell'essere natura le categorie di giudizio proprio dei monoteisti tutto il processo di selezione delle specie è opera di ares cioè come potete proiettare sugli esseri zanzara che depongono le uova che fanno nascere le loro larve che le loro larve stanno in acqua che vengono mangiate dalle carpe le categorie che attribuite alla mamma che non accudisce il suo bambino capite che è folle pretendere che una zanzara vada ad accudire le larve che emergono dalle sue uova è una stronzata ebbene questo fanno i monoteisti tanto per essere chiari ares è la forza che non solo spinge gli esseri a manifestare il proprio adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate ma le spinge a manifestare la loro libertà attraverso l'esercizio della loro volontà di esistenza svilire il potere di ares che si è manifestato dentro tutti gli esseri per centinaia di milioni di anni e che ha permesso la nascita di questo presente significa svilire l'intero potere di era e i suoi processi di trasformazione ridurre ares alla pura attività di massacro che i sistemi sociali umani hanno messo in atto significa non aver compreso cosa sia ares quando uno storione partorisce centinaia di migliaia di uova affinché qualcuno aggiunga la maturazione è in atto la strage di ares diventa arbitrario e avvilente mettere l'accento su quante uova andranno distrutte anziché mettere l'accento su quante uova andranno a maturazione domani esseri umani ed esseri orso non pescheranno né si ciberanno delle uova distrutte ma pescheranno e si ciberanno del trionfo di ares cioè quante uova sono giunte alla maturazione e quanti storioni risaliranno alla corrente ogni figlio di era è potenzialmente un Ercole a tutti era concede una possibilità di eternità a tutti era pone ostacoli feroci lungo il cammino del proprio divenire ogni essere ogni individuo deve superare le proprie fatiche per divenire nell'eterno dei mutamenti e bussare le porte dell'Olimpo ogni prova e ogni fatica è una contraddizione è una manifestazione di ares tutta la storia dell'evoluzione è la storia dell'attività di ares quando si sviluppa una contraddizione la si manifesta ares quando la contraddizione si risolve la trionfa ares dopo la soluzione delle contraddizioni nulla è più come prima la soluzione di una contraddizione manifesta un'aurora sia che una delle parti sia distrutta sia che le due parti non si siano annientate qual è il nutrimento di ares? ares si nutre della trasformazione ares viene nutrito dalla trasformazione continua che fonda il divenire del presente un presente che può affiancare ed ostacolare anche in base all'esercizio della propria volontà e allora perché James Hillman non coglie questo aspetto? perché Hillman è confuso scrive Hillman a pagina 120 un terribile amore per la guerra edizione a Delphi parlando del ruolo di Marte le forze che assegnano le terre le autorità concessionarie sono in ultima analisi le potenze invisibili che abitano la terra una delle quali ci è stata evocata da Susan Griffan quando parla della regina tellurica venerata da molti popoli come la grande madre terra un altro signore della guerra è Marte che impone l'aggressività dei suoi utensili agricoli e la cui terra è sempre presente alla mente di chi combatte dall'ultimo fantaccino al generale sembra quasi che Hillman voglia trovare il responsabile delle guerre un antico dio e ciò che egli non coglie è che era appartorito il dio della distruzione dalla sua rabbia Efesto la forza invisibile che agita la terra la forza che scatena gli zumani la forza che scatenò la peste nera la forza che si scatena nel cuore degli esseri della natura quando praticano la distruzione per la distruzione Ares si scatena se Ares si scatena almeno una parte della contraddizione continua il suo processo di divenire di trasformazione se si scatena Efesto questi fa tabula rasa di ogni presente Ares parteggia per una parte contro l'altra o per tutte e due Efesto solo per se stesso solo per la distruzione quanto continua ad esistere dopo la soluzione della contraddizione è lo sviluppo di forze che hanno concorso in quella contraddizione quanto continua dopo Efesto nemmeno Efesto lo sa quando Marte pianta i semi nella terra aggredendola con i suoi strumenti qualcosa germinerà quel qualcosa è il suo trionfo quando lo fa Efesto accadrà quel che accadrà quando Marte si scatena si combatte quando si scatena Efesto ci si retira e si cerca di mettersi in salvo ma perché era appartorito Efesto perché Zeus aveva appartorito Atena e chi è Atena ricordate cosa ci dice Walter Otto a proposito dello scudo di Achille sul suo scudo sono incisi Ares e Atena davanti alle truppe cosa ci dice Ilman di Atena proviamo a leggerlo in Ananche Atena nel libro La vana fuga degli dei edizione delfi per localizzare Atena psicologicamente dobbiamo avvicinarci a ciò che chiamiamo l'io e Atena era consigliera di molti eroi Atena è la voce che trattiene e lo sguardo introspettivo delle nostre riflessioni è il mentore interno ed è come uccello mentore che tanto spesso appare nell'odissea quando ci consigliamo con noi stessi questo stato stesso è un atto di Atena perciò il consiglio che ne viene fuori riflette la sua norma ed Atena ha qualche cosa in comune con Efesto anche lei è un artigiano Atena viene avvicinata alla romana Miner la cui radice è quella di mens mente Atena è una guerriera della razionalità Atena è l'arte dell'agguato sia che si tratti di guerra sia che si tratti di tessere sia che si tratti di costruire organizzare e progettare è l'arte attraverso la quale un soggetto agguanta qualche cosa ma l'agguanta dopo aver progettato e messo in atto azioni finalizzate ad agguantarlo ai propri figli ai figli dell'essere natura ai figli di era che sono costretti a divenire per contraddizioni e a fondare la propria esistenza nella forma Zeus regala Atena l'arte dell'agguato nascendo dalla testa di Zeus Atena si cala in ogni essere che manifestando Atena agisce per costruire i migliori adattamenti possibili all'interno di un maggior numero di variabili che riesce a cogliere solo che gli esseri che nascono figli della specie della natura sono corpo e sostanza di era costruiscono e sviluppano era calando Atena fra gli esseri della natura Zeus ha fornito loro uno strumento per costruire la loro libertà non agiranno più solo per alimentare era ma costruiranno il Dio che cresce dentro di loro anche se sono bloccati nella forma e nella quantità potranno accedere così con maggior facilità all'Olimpo questo è quello che fa infuriare era che coglie tutto il pericolo per lo sviluppo del pianeta Atena non si distribuisce in tutti gli esseri come Ares ma sceglie con maggior potere e determinazione i soggetti che manifestandola le permettono di costruire i suoi migliori adattamenti questo è il senso del potere guerriero manifestato da Achille sul suo scudo marciano Ares e Atena lo scudo di Achille rappresenta la contraddizione e la soluzione delle contraddizioni mediante l'arte dell'agguato che implica intelligenza determinazione direzione scopo eccetera Efesto è l'equilibratore della situazione il distruttore anche quando si parla del fabbro l'accento andrebbe messo non su ciò che costruisce ma su ciò che distrugge si distrugge un presente per spazzare via delle contraddizioni e poi nascerà quel che nascerà è più facile cogliere Efesto nella forma di vulcano che non in quella del mito greco quando Efesto si scatena nel cuore degli esseri umani questi perdono la tensione verso il futuro il presente e gli inghiotte ogni regola morale ogni etica ogni principio giuridico perde di valore è come se stesse per arrivare alla fine del mondo tutta la struttura di controllo sociale tutta la struttura psichico-morale crolla gli esseri si sentono liberi da ogni vincolo e la distruzione del presente diventa l'unica forma della loro esistenza sta per arrivare alla fine del mondo lo tsunami che travolge tutto il vulcano che spazza via ogni cosa la peste che distrugge la società civile l'invasore ha distrutto e devastato l'ordine sociale di quella civiltà eccetera era scatena Efesto quando deve equilibrare qualche cosa che si è fatto tragico sia nella natura nella società civile che nel cuore degli esseri umani Efesto è un distruttore anche quando produce come artigiano costruisce solo ciò che serve a distruggere costruisce armi di distruzione in funzione della distruzione dal fulmine di Zeus alle armi di Achille ed è un distruttore anche quando costruisce la rete con la quale intrappola Ares e Afrodite ed è sulla redazione Efesto Ares a Afrodite che voglio un attimo soffermarmi cominciamo a ripulire Afrodite dei fraintendimenti dell'interpretazione della Grecia classica Afrodite è figlia di Urano Stellato nasce dal suo membro tagliato da Kronos e gettato in mare Afrodite è l'assoluta capacità di generare Afrodite è l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente lei accompagna l'intento dell'esistenza ed è seguita da desiderio di trasformazione dice Esiodo nella Teogonia lei Eros accompagna e desiderio bello la segue da quando appena nata ando verso la stirpe degli dei non limitiamo la lettura di Afrodite alla pura funzione erotica anche se tutto l'esistente e ogni movimento della vita può essere letto in chiave erotica il potere di Afrodite è al di là di ogni altra attività sia essa di titani che di dei olimpi questo potere viene calato da urano stellato fra i figli della trasformazione i figli di Crono questo potere si cala fra i figli di Zeus gli esseri e la specie della natura però abbiamo visto come il divenire degli esseri della natura avvenga attraverso Ares per contraddizione e attraverso ilizia la nascita ed ebe la maturità sessuale sorelle di Ares la contraddizione genera qualche cosa dal conflitto la distruzione fa tabula rasa dell'esistente permettendo la nascita di nuove o diverse condizioni la distruzione costringe Afrodite a manifestarsi attraverso quanto è rimasto per costruire un futuro possibile la distruzione lascia Afrodite e scomenta lei deve incominciare da capo con quanto è rimasto Afrodite viene associata a Efesto e ad Ares solo che Afrodite non può generare con la distruzione ma può generare con la contraddizione e cosa può generare l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente con la contraddizione lei armonia ed è per fermare la nascita di armonia che Efesto costruisce una rete nella quale intrappola gli amanti Afrodite e Ares mentre amoreggiano a letto e gli espone alla derisione degli dèi olimpi le dèi si rifiutano di essere presenti all'esposizione mentre fra gli dèi presenti solo Poseidone comprende la gravità della situazione Efesto sta distruggendo delle opportunità Poseidone è il mare fecondo e l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente e la contraddizione si esprimono in Poseidone anche in Poseidone è lui che interviene per convincere Efesto ad esistere al suo intento la distruzione può agire in ogni presente ma si deve fermare davanti alle forze che possono far ripartire la costruzione di una nuova realtà dopo il suo passaggio da Ares e Afrodite nasce quanto terrorizza Efesto e Atena ed è armonia è la figlia di Ares la paura di Atena dove c'è armonia Atena non può esprimersi dove c'è armonia può agire Ares ma non Efesto si tratta di contendersi il cuore degli esseri della natura che possono esprimere questo o quel dio in questa o quella situazione c'è una tradizione mitica che narra come Atena ed Efesto abbiano avvelenato la veste da sposa di armonia per nuocere i suoi figli fra tutte le tradizioni mitiche in cui appare armonia questa versione è coerente con quanto stiamo dicendo Ilman nel suo libro Un terribile amore per la guerra attribuisce ad Ares l'archetipo del massacratore sistematico operato dagli uomini in tutte le guerre se è vero che Ares data una contraddizione in questo caso una guerra in armi si esprime come se fosse l'ultima azione della sua esistenza e un solo nemico non deve essere lasciato nelle possibilità di nuocere in futuro è altrettanto vero che Ares non è colui che scatena le contraddizioni né colui che ne determina i mezzi per la loro soluzione solo quando la contraddizione è scatenata solo quando i mezzi sono scelti Ares agisce con i mezzi più antichi che le specie forgiarono fin da quando erano nel brodo primordiale potremmo dire che Ares è la necessità di risolvere la contraddizione con il minimo di danno possibile e il massimo danno per se stessi e il massimo danno per la parte avversa è come per la guerra di Troia non fu Ares a scatenarla se mai Ares tentò di risolverla a modo suo nel più breve tempo possibile e ci riuscì solo quando Troia fu distrutta e ora mi fermo qui e per comprendere la grandiosità che è Ares perché non è facile riuscire a capire quella che fu la mentalità degli antichi partendo dal punto di vista di cristiani di creazionisti di monoteisti come al giorno d'oggi e per riuscire a capire le forze della vita è necessario purtroppo la stragoneria non c'è altra dimensione per far questo e per quanto io mi sforzi a far capire che cos'è la stragoneria e la trasformazione di se stessi purtroppo sembra che i miei sforzi vabbè hanno i risultati che hanno però risultati ne hanno avuti questo è il concetto di Ares all'interno di un insieme in cui Ares agisce ci sarà poi un altro pezzo che farò facendo capire come tutti quegli epiteti che i romani davano a Marte dobbiamo vederli all'interno dell'arena della vita e allora vedrete che quegli epiteti così sanguinari così truculenti assumono un altro significato e un altro senso che non è quello del massacro quello della guerra in armi ma questo lo farò quando sono in grado di farlo va bene quanto abbiamo ancora 14 minuti di tempo vabbè niente allora velocissimamente cambiamo immediatamente argomento tanto sulle mie trasmissioni ormai dovreste essere abituati a farvi un po' di overdose di informazioni e di dati e passiamo all'articolo che vi avevo promesso all'inizio la salute del cuore è questione di testa e vedrete che l'articolo dice cose ben più importanti che non nel titolo possiamo chiamarlo effetto Northridge dal nome del potente terremoto che ha colpito una zona nelle vicinanze di Los Angeles alle 4.30 di un mattino di gennaio del 1994 nel giro di un'ora e per tutto il resto della giornata i paramedici impegnati a soccorrere persone schiacciate o intrappolate dentro gli edifici hanno dovuto far fronte a una seconda ondata di decessi provocati da attacchi cardiaci fra gente che era uscita illesa dal sisma nei mesi seguenti i ricercatori di due università hanno esaminato i referti dei medici legali e hanno rilevato un impressionante balzo in avanti dei decessi per la crisi cardiovascolari da una media giornaliera di 15,6 ai 51 del giorno del terremoto per dirla in parole povere si erano spaventati a morte la medicina popolare ha sempre ammesso che un improvviso spavento o una cattiva notizia può essere fatale per lungo tempo però i cardiologi hanno fatto resistenza all'idea che il cuore la vigorosa sorgente di vita possa essere sconvolto in modo fatale da un evento mentale ma non sono soltanto gli sciocchi improvvisi come i terremoti ad uccidere è sempre più dimostrato che stati emotivi cronici come lo stress l'ansia l'ostilità e la depressione impongono un pesante un pesante tributo il rischio rappresentato dai fattori psicologici e sociali a un'incidenza almeno pari a quella dell'obesità del fumo e dell'ipertensione i ricercatori cominciano adesso a capire perché e un numero sempre maggiore di ospedali sta traducendo questa migliore comprensione in programmi che si ripropongono di combattere le malattie cardiache nel più improbabile dei luoghi di origine del cervello Deborah Moser professoressa di scienze infermieristiche dell'università del Kentucky presentò anni fa i risultati di una sperimentazione condotta su 536 pazienti che avevano subito attacchi di cuore aveva misurato i loro livelli di ansia con un classico test psicologico a risposta multipla e aveva controllato se avevano avuto ulteriori complicazioni come un secondo attacco cardiaco durante il periodo trascorso in ospedale quelli dal cui test erano usciti i valori di ansia più elevati avevano il quadruplo delle possibilità di andare incontro a complicazioni rispetto a quelli che avevano registrato i punteggi più bassi i medici stanno scoprendo che i fattori psicosociali costituiscono elementi di rischio molto più significativi di quello che si pensava in passato prendete la depressione una persona in buona salute farà doppiare almeno il rischio di attacco cardiaco dice Miksel Frenmo professore di medicina cardiovascolare all'università del Birman in Inghilterra e per le persone che hanno avuto un attacco cardiaco in passato la depressione quadruplica o addirittura quintuplica il rischio di averne un altro anche l'ostilità è un fattore di rischio sempre più importante elevati livelli di ostilità misurati mediante un test standard fanno aumentare del 29% la possibilità di morire di malattia cardiaca anche i traumi infantili sembrano avere un impatto sulle malattie cardiache ripeto anche i traumi infantili sembrano avere un impatto sulle malattie cardiache in una recente inchiesta condotta su 17.000 adulti a San Diego la dottoressa Maxi Dong del centro per il controllo della prevenzione delle malattie ha rilevato che il rischio di attacchi cardiaci sale fra il 30% e il 70% in quelle persone che hanno riferito di aver avuto esperienze infantili negative come abusi fisici o sessuali o emotivi violenza domestica o familiare che abusavano di droghe e alcol rifletteteci bene su queste cose e se lo stress dell'infanzia può portare a malattie cardiache qual è l'effetto dei fattori di stress nella vita corrente orari di lavoro più lunghi minacce di licenziamento tracolli dei fondi pensione uno studio dello scorso anno della rivista The Lancet ha esaminato oltre 11.000 soggetti colpiti da attacchi cardiaco in 52 paesi e ha scoperto che nei 12 mesi precedenti all'infarto i pazienti avevano subito uno stress notevolmente maggiore al lavoro in famiglia per guai finanziari depressioni e altre cause rispetto a circa 13.000 persone in buona salute bene questi anche questi dati dovrebbero farvi riflettere su cosa vuol dire vivere con passione vivere con responsabilità vivere con attenzione nella nostra vita e manifestare gli dei perché se facciamo finta di non vedere io non sono uno scientista cioè io non credo nella scienza come una religione però credo sia nella sperimentazione sia nei lavori di analisi nei lavori di inchiesta non tanto nelle soluzioni che spesso vengono prese e a volte delle soluzioni sono anche cattive cioè sono anche negative rispetto all'uomo non credo in queste cose e per me questa non è una religione però so che decine di migliaia di persone stanno lavorando per capire i meccanismi ora quando Einstein comprende i meccanismi della relatività i suoi allievi costruiscono la bomba atomica e la fanno esplodere però non è la colpa di Einstein è la colpa di decisioni politiche di decisioni culturali di decisioni sociali non è il fatto di aver scoperto i principi della fisica che portano a costruzione della bomba atomica ma sono delle decisioni diverse ebbene esistono decine di migliaia di persone che stanno lavorando che stanno studiando che stanno tentando di capire quei meccanismi e noi dobbiamo essere attenti a tutto questo perché dalla sperimentazione noi possiamo sapere se il nostro modo di pensare il nostro modo di vedere il mondo è corretto oppure è scorretto oppure qualcosa non va bene chiaramente esistono anche delle scelte scientifiche che non ci trovano d'accordo cioè delle anali scientifiche che non ci trovano d'accordo però ricordate che spesso lo scontro non avviene sull'analisi dei fenomeni spesso lo scontro avviene sulle soluzioni come si traduce dopo quell'analisi nella pratica e qualche volta certe ricerche vanno a finire nella pillolina nel prozac o robe del genere va bene vi do il numero di telefono 049 600 700 049 700 838 se qualcuno vuole chiamare bene la trasmissione ormai sta volgendosi un pochino al termine vi ricordo un attimino quello che abbiamo fatto in pratica in queste trasmissioni fino adesso abbiamo parlato nella prima trasmissione della relazione che c'è fra l'uomo l'uomo sociale e la società in cui viviamo e la visione pagana politeista è l'unica visione che può dare delle garanzie all'uomo per vivere oltre oltre a quello che è la sua quotidianità purtroppo quello che noi assistiamo è la perdita di capacità delle persone di vedere il mondo nel quale viviamo la perdita di capacità delle persone di analizzare le cose che stiamo vivendo e questa cosa questa sensazione che ho io cioè questo modo di vedere le cose che ho io in realtà anche scientificamente si comincia a comprendere dove uno degli errori importanti insomma che è stato fatto in pratica se voi ricordate fino a poco tempo fa c'era un dato sul quoziente di intelligenza il cosiddetto cui che è un'intelligenza matematica in pratica un'intelligenza razionalistica e adesso gli esperti stanno un po' cancellando questo qui questo quoziente di intelligenza perché si sono accorti che la vera intelligenza l'intelligenza reale capire le emozioni degli altri è il segreto del successo a cominciare da quello evolutivo e le donne sono meglio in pratica si comincia a comprendere che l'intelligenza è essenzialmente una capacità emozionale cioè una capacità di comprendere quelli che sono i meccanismi quelli che sono le azioni del mondo quello che sono le cose che vengono manifestate dagli altri da chi ci sta attorno ed è una comprensione che sta avvenendo nel mondo accademico e che sta cambiando un po' tutti quelli che sono i parametri di analisi dell'intelligenza purtroppo quello che vi ho detto della Repubblica del 24 settembre 2005 come articolo purtroppo non è così facile non è facile perché perché noi viviamo in una società che è una società industriale e la società industriale ha dei parametri di azione e di risposta che devono essere abbastanza precisi cioè in pratica se io in un tubo gli metto due quintali di acqua dall'altra parte del tubo mi devono uscire due quintali di acqua altrimenti significa che ho una perdita allora quantità due quintali di acqua tubo sezione diametro lunghezza del tubo uscita dell'acqua peso dell'acqua due quintali di acqua che escono ebbene tutto quello che noi abbiamo come organizzazione sociale o come organizzazione industriale praticamente si basa su questi parametri e a questi parametri le persone vengono piegate cioè viene piegata l'intelligenza delle persone risultato di tutto questo sono necessarie delle persone che siano abili nel misurare nel numerare di fare equazioni matematiche anche a grandissimo livello e non interessa non sono mai interessate fino ad oggi quelle persone che invece avevano la capacità di percepire e di comprendere quelli che sono i meccanismi umani e i meccanismi della vita adesso però si sta capendo che le persone non sono numeri e le persone hanno invece delle capacità inquietive ed emozionali che sono diverse ed è tutto sommato anche il motivo del fallimento della scuola filosofica di Vienna di Popper e di Staltri che volevano capire la storia mediante dei parametri razionali la storia non si capisce attraverso parametri razionali la storia si capisce attraverso parametri emozionali certo i parametri razionali sono quelli che ti spiegano alcune cose ma le spiegano a posteriori non a priori a priori invece per riuscire a capire cosa succederà nella storia è necessario conoscere i parametri emozionali e tutto sommato oggi come oggi non esiste nessuno che li sappia leggere per fortuna per cui abbiamo ancora margine di stragoni per questo bene io chiedo qui la trammissione magia stragonaria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo oggi Francesco purtroppo non è stato in trammissione era impegnato in altri problemi abbastanza complessi faccio auguri a Francesco faccio auguri a Loredana faccio auguri anche all'amico Alberto che è in ospedale ancora rotto speriamo che si rimetta presto insomma io sono Claudio Simeoni meccanico apprendista stragone guardando l'anticristo ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo